Salve, oggi vi parlo di nuovo di fusione nucleare. Come avevo anticipato in un video passato sull'argomento, voglio cominciare una serie di video dedicati ai progressi che sono stati fatti o le ricerche che sono state compiute in alcuni dispositivi Tokamak che sono attualmente in funzione o che erano in funzione fino a qualche tempo fa. E sono tutti dispositivi con cui ho avuto più o meno a che fare, alcuni più direttamente e altri più indirettamente. Sono tutti Tokamak di medie dimensioni, quindi sono di dimensioni diciamo piccole rispetto a ITER per esempio, che sarà il primo prototipo di reattore, che però hanno negli anni, addirittura nei decenni in alcuni casi, prodotto degli importantissimi risultati che sono utili poi per contribuire appunto agli studi che verranno fatti su ITER. Al momento sono sicuro di portarvi almeno due dispositivi. Uno che è quello che è oggetto del video di oggi, che è FTU, il Tokamak di Frascati, che è stato decommissionato, è stato smontato, quindi adesso non è più in funzione, però per svariati decenni ha dato importanti contributi. Oggi vi parlerò dei studi che sono stati compiuti negli ultimi anni, più o meno negli ultimi dieci anni di attività. Ovviamente diciamo ristringo il campo al periodo in cui io sono stato più o meno più coinvolto nella fusione. Ovviamente c'è tutta una storia che precede questo periodo, ma di cui io non ho esperienza diretta, quindi non ne parlo perché di questi studi ho sentito parlare, ma solo indirettamente. Altri dispositivi di cui parlerò nei video successivi sono Compass, ovviamente, il Tokamak di Frascati, parlerò di TCV, che è il Tokamak di Lausanna in Svizzera, e poi di ASDEX, anche se di questi due, TCV e ASDEX, devo ancora reperire il materiale, invece di Compass ho già del materiale da parte, per cui posso cominciare a prepararlo. Quindi oggi parlerò di FTU. Ho raccolto un po' di materiale da alcuni articoli pubblicati a partire dal 2015 fino al 2022, ma probabilmente ce ne sono anche di più vecchi, ma io ho preferito non andare troppo indietro nel tempo, che sono dei documenti riassuntivi, si chiamano tutti overview of FTU results, quindi overview dei risultati di FTU, sono stati pubblicati a distanza di due o tre anni l'uno dall'altro e riportano appunto i progressi compiuti in alcuni studi particolari. Quindi i risultati di cui parlo oggi si basano su questi risultati qua, su questi studi pubblicati. Mentre di quelli precedenti non ho recuperato le informazioni, però diciamo che c'è un limite a tutto, anche a quello che si può dire in un video ovviamente. E a proposito, questo sarà un video lungo, verosimilmente sarà un video molto lungo, perché ci sono un certo numero di slide, però siccome la quantità di materiale, diciamo di informazioni che vi voglio dare è grande, spenderò un po' di tempo su ciascuna slide per spiegarvi cosa significano i vari studi di cui voglio parlarvi. Quindi sarà un video lungo, quindi preventivamente vi do alcuni annunci che se non vedrete il video fino alla fine non vi non ascolterete, quindi preferisco darveli adesso. Allora il primo è che in un video che risale un po' di tempo fa, circa un mesetto fa, avevo detto che avevo testato un sistema di spedizione libri che è messo a disposizione dalle poste italiane, che è piego di libri o pieghi di libri. Sostanzialmente è un servizio che consente di spedire libri a basso prezzo in tutta Italia, sostanzialmente il prezzo è tipo 1,40 euro forse o 1,30 euro per ciascun libro per un peso inferiore a 2 kg e quindi è molto economico, la versione raccomandata costa un po' di più, costa tipo 4 euro, forse 5 euro. Quindi in ogni caso è un servizio economico. Io avevo spedito 5 libri, o meglio 5 copie di un solo libro, che è il mio libro, ad altrettante persone che pensavo potessero essere interessate a riceverlo e ad oggi, quindi a un mesetto circa di distanza, 4 persone su 5 l'hanno ricevuto. Non so se il quinto arriverà a destinazione, con un ritardo ormai abbastanza notevole, più di un mese, oppure non arriverà più a destinazione, però 4 su 5 sono comunque un buon risultato. È stato un esperimento e diciamo che in un voto da 0 a 10 assegnerei un 8 su 10 a questo servizio. 8 su 10 nonostante i tempi di consegna siano lunghi, a volte 3-4 settimane, però il prezzo è davvero basso e se dovesse arrivare a destinazione anche l'ultimo libro sarebbe anche affidabile, almeno al 100%. Quindi fate voi, se voi volete spedire i libri, questo è un servizio che esiste ed è abbastanza economico, altrimenti usate la raccomandata che è più veloce ed è anche assicurata. Secondo le informazioni che vi voglio dare, Random Physics, il canale Random Physics, ha pubblicato un corso di relatività generale completo, che va dalle basi matematiche elementari fino alle onde gravitazionali, che sono l'ultimo argomento di cui parla. In tutto dura 6 ore, più o meno, mi sembra di ricordare, quindi è molto lungo, però potete vederlo a pezzi, diciamo così, a puntate. Sono delle autentiche lezioni, quindi sono abbastanza impegnative e arriva anche a parlare di argomenti complessi, molto complicati, però è veramente buono, quindi io, se volete, se siete interessati alla relatività generale, cercate il canale di Random Physics, il corso di relatività generale. Un altro video che ho visto da poco è l'intervista al direttore generale di ITER, fatta dall'avvocato dell'atomo, Luca Romano, è un'intervista che ha realizzato quando era in visita al sito di ITER e in risposta a un mio commento ha detto che ci saranno altri video di interviste ad altri scienziati che lavorano su ITER, quindi se volete recuperare quell'intervista e forse in futuro pubblicherà anche le interviste ad altri personaggi, seguite il suo canale perché magari troverete delle informazioni interessanti. Ma oggi invece vi parlo di FTU e quindi adesso andiamo alle slide che ho preparato. E di FTU che ho preparato, come vi ho detto nell'introduzione, ripassando, diciamo, ripercorrendo un po' quelli che sono stati i contributi più importanti negli ultimi decenni, una decina d'anni che sono stati riassunti in dei articoli di review che si chiamavano appunto così Overview of FTU Results, pubblicati a partire più o meno dal 2015 fino al 2022, anche se probabilmente ce ne sono delle versioni più vecchie che però non sono andato a recuperare. Prima però di cominciare con la fisica, quindi con le ricerche che sono state compiute, volevo dirvi qualcosa a proposito del centro di ricerche Enea di Frascati, dove io, che ho frequentato per un po' di anni e con cui sono ancora in contatto per via di collaborazioni, il centro di ricerche Enea si trova in questa zona qui, una zona molto bucolica, in mezzo alla campagna un po' a valle di Frascati, Frascati è questo paesino che si trova qua in alto, sotto il Monte Tuscolo e a fine di via Fermi che poi scende giù fino alla stazione di Tor Vergata. Comunque l'Enea è un complesso che ospita FTU e ci sono anche una serie di edifici che, per esempio questo è l'edificio della teoria che io frequentavo, poi ci sono edifici di uffici, edifici che contengono altre apparecchiature elettroniche, quindi zone che frequentavo di meno, però è un ambiente che ho avuto modo di frequentare e molto piacevole dove lavorare. E anche Frascati è un bellissimo posto dove vivere, questa era solo una piccola parentesi personali. Cominciamo a dire qualcosa su FTU invece, che è il Tokamak di cui parlerò oggi. FTU è un Tokamak compatto, quindi di dimensioni abbastanza limitate e ad alto campo magnetico, queste sono le sue principali caratteristiche. Il campo magnetico può arrivare fino a 8 Tesla, che è veramente molto alto rispetto a tutti i Tokamak esistenti, anche rispetto a ITER, che avrà un campo di 5,6 Tesla. La corrente di plasma fino a 1,6 MHz, che invece è relativamente piccola, però per un dispositivo così piccolo, così compatto è anche abbastanza grande. Il Tokamak ha sezione circolare, quindi è un toroide, vero e proprio, il plasma ha sempre forma circolare, non è mai stato, o perlomeno nella maggior parte dei casi non è mai stato sottoposto a elongazione, quindi deformazione della sua forma. Il raggio maggiore è 0,93 metri, quindi circa un metro, e il raggio minore 0,30, quindi 30 centimetri, quindi è abbastanza piccolo. Ha una discreta potenza di riscaldamento ausiliario nella forma di elettron-cyclotron, quindi onde di ciclotrone degli elettroni, 1,5 MW di potenza a 140 GHz di frequenza. In più ci sono 2 MW di potenza nella forma di low-wear hybrid, che sono un'altra forma di onde elettromagnetiche a 8 GHz di frequenza, quindi parecchio più bassa. E appunto con entrambi i sistemi sono stati compiuti degli esperimenti. Io oggi vi parlerò un po' di elettron-cyclotron e non di low-wear hybrid, li accennerò soltanto. Allora, come dicevo, i riferimenti per questo tipo di informazioni vengono da una serie di paper pubblicati da Gianluca Pucella e altri, tra gli altri, che significa tra i coautori, ci sono praticamente tutti i membri del team, dell'ENA di Frascati, che lavorano sul Tokamak FTU, pubblicati su Nuclear Fusion a partire dal 2015, 2017, 19-22, quindi a intervalle più o meno regolari l'uno dall'altro. E in questa serie di overview si coprono un certo numero di obiettivi, diciamo di ambiti di ricerca, che sono molto interessanti. Qui ve li elenco e poi andrò un po' più nel dettaglio. Allora, runaway electrons, quindi elettroni relativistici, onde di ciclotrone e di elettroni, quindi electron cyclotron waves, il limiter che usa metalli liquidi, quindi liquid metal limiter, che è un componente molto importante per il bordo del plasma, studi su instabilità magnetoideordinamiche, MHD, che è una cosa di cui mi sono occupato anch'io, studi nel plasmi ad alta densità, che è una cosa molto caratteristica e molto utile, studi sul trasporto, studi sulla fisica del bordo, quindi fenomeni al bordo e sviluppo di diagnostiche. Quindi c'è una certa ricchezza di argomenti che permettono di esplorare una grande varietà di obiettivi fisici. Quindi cominciamo dal primo argomento, che sono gli elettroni runaway, o elettroni relativistici, di cui vi ho parlato già in alcuni video più dedicati specificamente all'argomento. È una cosa di cui mi sono occupato anche a Compass, quindi dove lavoro attualmente, ma che avevo cominciato già a intravedere ai tempi di FTU, quando ero là. E lì hanno già fatto un certo numero di lavori, appunto. Allora, gli elettroni runaway, vi ricordo brevemente, sono una classe di elettroni relativistici, che quindi hanno alte energie, che si generano in opportune condizioni, quindi quando ci sono, per esempio, intensi campi elettrici che possono accelerarli oltre soglia o con densità bassa del plasma. E possono raggiungere energie di diversi mega elettron volt, quindi sono energie maggiori della massa riposo dell'elettrone, quindi sono relativistici. La generazione degli elettroni runaway avviene per un'accelerazione da parte di un campo elettrico che deve essere superiore ad un certo valore di soglia, un certo valore critico. In questo studio qua, che è stato riportato, si osserva che il campo elettrico osservato era tipicamente più alto di quello previsto teoricamente, e anche di un fattore 5 a volte, da un fattore 2 a un fattore 5. E per capire come fosse possibile, diciamo, hanno tentato di correggere questo campo critico, includendo gli effetti della radiazione di sincrotrone. La radiazione di sincrotrone è una tipo di radiazione elettromagnetica generata dagli elettroni quando spiraleggiano all'interno di un campo magnetico. Questo fa perdere energia agli elettroni e quindi fa sì che il campo elettrico che sia necessario per accelerarli sia più grande, perché una parte della loro energia viene sottratta via, no? E quindi con questa correzione si vede che c'è un maggiore accordo tra i dati, e quindi questo è un buon risultato. Ci sono alcune osservazioni che associano le emissioni di runaway, quindi le perdite di questi elettroni relativistici dal volume del plasma, in presenza di isole magnetiche, che sono un tipo di instabilità magneto-idrodinamiche che compaiono nel plasma e che possono perturbare l'equilibrio e quindi la stabilità, insomma, le performance del plasma. Si è osservato che c'erano dei segnali che corrispondevano a perdite di questi elettroni che erano osservati tramite questa diagnostica che si chiama Cerenco, che è un tipo di sonda che misura appunto la presenza di particelle di alta energia, diciamo, e queste erano osservate in corrispondenza di segnali provenienti dalla rotazione di isole magnetiche. Quindi questa sincronia tra i segnali suggerisce che alcune elettroni runaway vengono espulsi quando c'è una presenza di isole magnetiche e questa è una cosa che è stata osservata anche in altri dispositivi. Ancora una volta, questo è un lavoro successivo, ma che usa diversi detector Cerencov, quindi sonde Cerencov sensibili a diverse energie dei runaway e di nuovo mettono in correlazione questi picchi nel segnale con i segnali elettromagnetici e questo è uno zoom su tempi più brevi per mostrare questa corrispondenza tra i segnali, questa specie di coerenza, di correlazione tra i segnali. Poi abbiamo l'insorgere di instabilità o comunque di comportamenti particolari nella popolazione di elettroni runaway quando si iniettano dei pelletti di deuterio, quindi delle specie di capsule di deuterio che vengono sparate nel plasma e poi quelle cambiano evidentemente il comportamento del plasma, oppure iniettando delle impurezze dal bordo che vengono create con questo laser blow off che significa generazione, diciamo blow off, non so come tradurlo letteralmente, comunque tramite un laser, quindi un piccolo impulso laser colpisce una parete e fa sì che un po' di impurezze entrino dentro. Sia il pellet di deuterio, sia queste impurezze che entrano nel plasma causano una serie di fenomeni che sono osservabili in queste spike, in questo segnale, che è di nuovo un segnale cerenco in diverse energie. E questo tipo di segnale è anche associato a delle instabilità magneto-idrodinamiche che si sviluppano nel volume del plasma e che sono state riconosciute o attribuite a un effetto che si chiama anomalous Doppler. Un altro strumento diagnostico che è stato usato per studiare i runaway, gli elettroni runaway, è la camera RACE, che è una camera, quindi una fotocamera, diciamo, sviluppata apposta per registrare la radiazione di sincrotrone, che vi ho già accennato, è un tipo di radiazione che viene emessa dagli elettroni relativistici in presenza dei campi magnetici. Questa radiazione di sincrotrone si trova prevalentemente nella direzione del fascio, quindi in questa immagine si vede che nella direzione forward c'è questa luce, mentre nella direzione backward, quindi in coda il fascio, non c'è. È molto direzionale. E oltretutto è proporzionale all'energia. Esistono delle formule che si possono applicare per cercare di stimare l'energia degli elettroni runaway in funzione della intensità della radiazione di sincrotrone. Quindi sono stati fatti degli esperimenti, o meglio, sono state fatte delle misure, e è stata confrontata la curva di luminosità di questa camera con delle stime teoriche, con un buon accordo. Quindi è stato possibile stimare l'energia dei runaway che raggiungono anche i 30 mega elettronvolt, quindi molto elevate. Poi qui si cominciano a vedere le onde elettromagnetiche, o meglio, onde radio, per la verità, che vengono emesse dai runaway e che, come vi ho accennato già, erano state attribuite a questo fenomeno che si chiama anomalous doppler. È un tipo di risonanza. Questo tipo di onde sono state osservate in determinate scariche tramite delle antenne. Quindi sono state emesse delle antenne in determinati oblo port che si trovano sulle aperture laterali del tokamak e queste antenne hanno registrato dei segnali radio. Questi segnali, appunto, a questo livello, quindi al momento in cui erano stati pubblicati questi risultati, non erano stati ancora individuati con precisione, però l'ipotesi è quella che si tratti di questo tipo di risonanza anomalous doppler. In questa immagine i segnali sono visibili qua, nell'ultimo riquadro in basso. Mentre invece in alto ci sono il segnale associato agli hard X-ray, quindi raggi X di alta energia e neutroni. E si vede che quando cominciano a entrare in gioco appunto questi segnali qui, che sono evidenza della presenza di elettroni runaway, c'è anche il segnale di queste onde radio. Ok, adesso muoviamoci, cioè ci spostiamo ad un altro argomento che è quello delle onde electron-cyclotron, ciclotroni degli elettroni, che sono, diciamo, impiegate per diverse applicazioni. Qui brevemente ricordo le onde elettron-cyclotron sono tipicamente di alta potenza, si parla di alcuni megawatt, e vengono impiegate prevalentemente per riscaldare il plasma, però anche per facilitare l'accensione, lo start-up, e controllare le instabilità magneto-idrodinamiche e anche per fare delle misure diagnostiche, quindi hanno molte applicazioni. la prima che viene mostrato qua è quella del controllo appunto di queste instabilità magneto-idrodinamiche. L'idea è quella di sparare questo fascio di onde elettromagnetiche in corrispondenza di certe posizioni nel plasma dove ci sono queste famigerate famose isole magnetiche, che sono queste instabilità magneto-idrodinamiche che possono compromettere il confinamento, e appunto le riprenderò in seguito perché c'è tutta una serie di studi associati a questi. Comunque l'idea è quella che vengono iniettati questi fasci di onde elettromagnetiche con una certa periodicità e quando questo viene fatto si osserva una diminuzione nella stabilità o meglio un aumento nella stabilità di queste onde che è parametrizzata da quest'ultimo indice in basso. E qui viene mostrato per due scariche in cui nella scarica rossa non viene applicata questa onda elettromagnetica e nella scarica blu invece viene applicata e si vede che quando viene applicata le isole magnetiche vengono soppresse. Poi c'è l'applicazione allo start-up assistito quindi agevolare l'accensione del plasma. Questo è importante perché nei tokamak grandi come ITER lo start-up quindi l'accensione del plasma verrà fatta prevalentemente con mezzi esterni non con la corrente del plasma. e questo richiede appunto degli strumenti come le onde elettromagnetiche questo è un possibile metodo. In queste immagini si mostrano due risultati quello sulla sinistra è la differenza tra l'efficacia quindi nella generazione della corrente di plasma usando una conversione di modo quindi da un tipo di onda ad un'altra dopo riflessione attraverso la parete cioè sulla parete mentre sulla destra si vede la dipendenza dell'efficacia nella generazione di corrente dalla presenza di neon che viene iniettato per vedere il suo effetto appunto. E in quest'ultimo caso si vede come per valori troppo grandi di frazioni di neon all'interno del plasma la potenza ECRH quindi elettron-cyclotron non è sufficiente a generare una corrente di plasma abbastanza grande infatti questi casi circolettati sono quelli in cui questo sistema di start-up non ha avuto successo Muoviamoci verso un altro elemento un altro argomento che è molto interessante che è quello del limiter con metalli liquidi Allora prima di tutto bisogna che vi dica qualcosa sul problema della fisica del bordo del plasma al bordo del plasma si depositano grandi flussi di potenza dovuti al calore che diffonde via dal plasma quindi molto calore si deposita sulle pareti quindi sono stati sviluppati dei componenti che sono affacciati sul plasma e che sono dedicati appunto ad assorbire questi grandi flussi di calore uno di questi è il limiter che è un dispositivo passivo sostanzialmente che tocca quasi il plasma e lo limita in questo senso un altro è il divertore che invece è un dispositivo più attivo perché comporta anche una sagomazione della forma del campo magnetico per deviare proprio le linee di campo magnetico in una certa direzione su FTV c'era solo il limiter e hanno sviluppato questo concetto appunto di limiter con metalli liquidi l'idea è quello di prendere un tubo di molibdeno coprirlo con delle specie di fascette diciamo così di feltro però fatto di tungsteno quindi è una specie di spugna di tungsteno che viene imbevuto di stagno stagno liquido il fatto è che lo stagno ha questa proprietà di fonde a bassa temperatura circa 300 gradi però di vaporizzare a temperatura molto alta sopra i 1500 gradi quindi c'è un vasto intervallo di temperatura in cui lo stagno rimane liquido e può quindi assorbire il flusso di potenza oltretutto questa sonda era dotata o meglio questo componente era dotato di sonde che misurassero la temperatura e anche alcuni altri parametri del plasma e questo si è comportato molto bene nel supportare grandi flusso di calore per simulare una configurazione che è quella di un divertore quindi dove le linee di campo magnetico vengono deviate per formare un punto X al plasma è stata data prima una elongazione quindi dalla forma circolare il plasma è stato stiracchiato in direzione verticale per renderlo più elongato e quindi il plasma toccava più da vicino questo limiter oppure è stato proprio trasformato in una forma a punto X e quindi qua il limiter si comportava come se fosse un divertore quindi dove c'è un punto X appunto è così che funziona il divertore si è osservato che il limiter era in grado di resistere a flusso di potenza fino a 1,5 o forse anche più megawatt al metro quadro che comincia ad essere interessante come valore anche per alcuni secondi questa mostra anche se è un po' criptico lo devo spiegare un po' mostra un fenomeno interessante cioè la degradazione nel confinamento nel plasma addirittura una disruzione che significa il termine violento della scarica quando la temperatura superficiale di questo limiter supera il 1500 gradi che è il punto di evaporazione dello stagno quando questo succede evidentemente molto del plasma evapora e questo contamina il plasma il problema dello stagno è che ha un numero atomico abbastanza elevato quindi è un elemento pesante quindi se penetra nel plasma irradia molta energia per emissione atomica sostanzialmente transizioni atomiche tra livelli questa irradiazione di energia raffredda rapidamente il plasma e provoca una disruzione e questo si verifica appunto quando la temperatura supera questa soglia sono state fatte delle analisi spettroscopiche della composizione della composizione del plasma per identificare appunto questi elementi pesanti che erano lo stagno che viene dal metallo liquido il molibdeno che viene sia dalle pareti sia dal tubo che supporta diciamo che sostiene questo limiter e sia il tungsteno che viene invece dalla spugna metallica di cui è impregnata diciamo di stagno e le analisi spettroscopiche mostrano la presenza di questi elementi in diversa diciamo concentrazione e mostrano come lo stagno è prevalentemente al bordo rimane al bordo quindi tra posizioni diciamo esterne mentre il tungsteno tende anche ad andare verso il centro e questo può essere un problema per il confinamento adesso veniamo a un argomento che mi è interessato molto e continua a interessarmi ancora oggi che è quello delle instabilità magnetoidrodinamiche o MHD che sono un tipo di instabilità nel plasma appunto che possono svilupparsi in diverse circostanze durante le scariche e possono compromettere il confinamento quindi fare causare una perdita di confinamento o addirittura causare disruzioni qui si mostra un fenomeno che è il trigger quindi l'innesco di isole magnetiche che sono una fase diciamo non lineare dei modi tearing che sono un tipo di instabilità in seguito all'iniezione di neon neon abbiamo già visto prima aveva un effetto dell'etherio sullo startup e qui si vede che è anche l'effetto per esempio di innescare questa instabilità qua si vede perché queste due linee verticali barrate sono la fase di iniezione del neon in questa scarica e si vede che qua in queste immagini sotto si innesca una certa instabilità con una frequenza di alcuni kHz e un'intensità che aumenta e poi alla fine termina in qualche maniera quindi mentre invece sulla destra non c'è nessuna iniezione di neon e la situazione magnetica è molto più tranquilla diciamo così poi c'è l'interesse verso la previsione o predizione delle disruption le disruzioni che sono un fenomeno da evitare soprattutto nei grandi toccamat perché sono molto deleterie la previsione di disruzioni si può basare su certi indizi su certi segnali tra cui segnali magnetici appunto presenza di isole magnetiche che possono crescere e poi causare questi fenomeni possono essere fatti con singole bobine mirnov che sono bobine magnetiche oppure un'analisi più avanzata che si chiama Singular Value Decomposition SVD che prende in esame più segnali e li mette in un certo senso non in correlazione ma è come se li decomponesse in modi diversi diciamo così non sono esattamente modi normali non sono singoli modi di instabili ma è un'analisi più statistica mettiamola così e qui si mostrano i risultati in termini di previsioni di successo quindi nessun segnale e non c'è nessuna disruzione oppure non c'è segnale o meglio non c'è disruzione però c'era un segnale o viceversa quindi c'era stata una disruzione ma non c'era nessun segnale oppure c'era stato il segnale e c'è stata disruzione sono i falsi positivi i falsi negativi i veri positivi i veri negativi insomma quel genere di studi statistici che si fanno si vede che ha un ottimo rate di successo sia per i veri negativi sia per i veri positivi e nel caso della singular value decomposition il rate di successo è un po' inferiore però ancora sufficientemente buono diciamo poi c'è lo studio diciamo più da principio primo se vogliamo gli studi di stabilità lineare di questi modi tearing che poi evolvono in isole magnetiche e questo si può fare con un codice appunto lineare che calcola la stabilità che si chiama Mars allora l'immagine sulla sinistra mostra che al crescere della densità del plasma cresce questo tipo di instabilità che si vede qua nei segnali magnetici che aumenta sempre di più mentre sulla destra c'è lo studio di stabilità quindi sarebbe il grow rate quindi il rate di crescita lineare di questa instabilità versus questo parametro 1 su s che è una misura di quanto è resistivo il plasma perché queste instabilità crescono tanto più il plasma è resistivo queste barre verticali tratteggiate corrispondono ai diversi istanti nella scarica a sinistra e quando queste barre verticali che corrispondono a certi valori di 1 su s intercettano queste curve allora significa che qui il plasma era instabile rispetto a questi modi quando non le intercettano come nel caso di queste curve vuol dire che il plasma non era stabile quindi evidentemente a un certo punto c'è qualche fenomeno che rende il plasma instabile rispetto a questi modi poi c'è lo studio del controllo attivo di questi modi tearing tramite onde di ciclotrone elettron-cyclotron oltretutto modulata in potenza quindi vuol dire che la potenza di queste onde viene modulata nel tempo anzi diciamo che viene modulata la loro posizione vale a dire che queste onde cercano di intersecare la posizione in cui si trova l'isola magnetica o il modo tearing e a seconda di quanto riescono a sovrapporsi a questa posizione si può avere un migliore o un peggiore effetto quindi un migliore o un peggiore successo nel controllare questa instabilità qua si vede l'effetto su due diverse scariche c'è di non poter andare troppo nel dettaglio nello spiegarvi questi argomenti perché ciascuno di questi meriterebbe un approfondimento però questo è un video di overview quindi per alcuni di questi argomenti ho dedicato dei video quindi magari li metterò in descrizione se volete approfondire un altro un altro studio che è stato effettuato è quello sui cicli limite che sono un tipo di comportamento particolare di queste isole magnetiche in determinate condizioni quindi in particolare ad alta densità del plasma questi cicli limite sono in poche parole un comportamento oscillante periodico in termini di frequenza e di ampiezza di questi modi di queste instabilità che si innescano a un certo punto nel plasma in determinate condizioni in particolare a densità abbastanza elevate nell'immagine in alto questo fenomeno è stato osservato in scariche diciamo tutto sommato regolari quindi con una densità una rampa di densità che cresceva nel tempo in basso invece in uno studio più recente si vede che il numero delle scariche è molto più alto quindi vuol dire che è stato fatto più di recente nel plasma si innescavano una serie di oscillazioni che vengono detti so-tut letteralmente denti di sega per via di come varia la temperatura in questi periodi qua sono tipo crescite seguite poi da da crolli verticali praticamente e qua si vede che il fenomeno è più complicato perché i modi tearing o isole magnetiche interagiscono anche con queste oscillazioni di so-tut quindi il ciclo che qua era molto pulito molto regolare qua risulta anche molto perturbato da questi so-tut e con questo concludiamo sostanzialmente avrei voluto parlarvene di più quindi approfondire più argomenti ma il video sarebbe risultato troppo lungo e non avrei potuto fare lo stesso lavoro per gli altri toccama perché ci sono altri dispositivi che voglio affrontare seguirò più o meno lo stesso schema e cercherò di non fare video eccessivamente lunghi comunque vi menziono vi elenco solamente gli altri argomenti che sono stati studiate allora l'uso di on the lower hybrid ad alta densità questo è stato uno studio che non dico che mi abbia coinvolto direttamente perché ho fatto ben poco in questo però ero presente a Frascati quando facevano questi studi e tra l'altro questo studio è anche risultato in un articolo su Nature quindi abbastanza famoso poi c'è il controllo della posizione verticale in plasmi elongati perché i plasmi elongati sono instabili rispetto a questo quello che viene detto vertical displacement spostamento verticale quindi è necessario controllarli attivamente poi c'è il density peaking quindi l'aumento nella densità centrale del plasma con il neon e anche come questo dipende dalla collisionalità del plasma e aumenta in modo più o meno proporzionale alla collisionalità poi c'è uno studio che riguarda il bordo del plasma c'è la dipendenza di questa quantità che si chiama power decay length che sarebbe lunghezza di decadimento della potenza diciamola così ad alcuni parametri del plasma questo è uno studio molto importante e poi c'è la misura della ritenzione del deuterio nelle pareti sottinteso che è indicativo per come si comporterà il trizio in iter perché noi non vogliamo che il trizio venga assorbito dalle pareti perché altrimenti poi contaminerebbe il plasma o perlomeno sarebbe poi difficile smaltirlo qui si facevano esperimenti con il deuterio perché ovviamente il trizio non era disponibile poi c'è una grande attività legata allo sviluppo di diagnostiche alcune le ho citate il collective Thompson scattering è un tipo di diagnostica a microonde che usa la radiazione electron cyclotron per misurare i parametri che riguardano gli ioni però poi ci sono i rilevatori Cerenkov di cui vi ho parlato rivelatori di raggi gamma e rdx ray quindi raggi x poi c'è la camera race che serve per misurare la radiazione di sincrotrone dei runaway gli array di saddle coil quindi insiemi di bobine che servono a identificare i modi mhd magneto idrodinamici infine questa tecnica che si chiama laser induced breakdown spettroscopy che serve per prelevare dei campioni di elementi dalle pareti usando un impulso laser per poterli studiare per poter vedere qual è il livello di contaminazione delle pareti rispetto a certi elementi quindi lo stato attuale delle cose è che compass è stato scusate compass ftu scusate c'è stato un piccolo lapsus perché anche compass è stato smantellato però qua si parlava di ftu e adesso si sta costruendo DTT diverter tokamak test che è un nuovo progetto che viene costruito all'enea è un progetto che serve appunto per studiare i regimi di plasma più vicini a quelli di ITER quindi questo è ITER oriented molto più vicino alla plasma di ITER avrà un campo magnetico che arriva fino a 6 Tesla che è più o meno quello di ITER una corrente di plasma fino a 5,5 MA che è invece molto minore di quella di ITER ma perché il dispositivo è più piccolo infatti anche se ha una sezione di tipo ITER quindi la forma del plasma sarà quella il raggio maggiore è 2 metri e qualcosa poco più di 2 metri mentre quella di ITER sarà 6 metri e il raggio minore 70 cm quello di ITER sarà mi sembra 2 metri o giù di lì quindi c'è un certo differenza proprio nelle dimensioni però avrà una grande potenza di riscaldamento ausiliario anche se non ho letto in che proporzione sarà tra diversi tipi di onde o di MBI Neutral Beam Injection la potenza totale sarà 45 MW che è molto per un tokamak di queste dimensioni il fatto di avere così tanta potenza comporterà che le temperature sono elevate e quindi anche i flussi di potenza sul divertore che sarà montato in questo dispositivo per studiare appunto i flussi di potenza sul divertore ecco saranno molto grandi paragonabili a quelli di ITER addirittura di DEMO che sarà il primo prototipo di centrale a fusione quindi DTT è un grande progetto che verrà costruito nei prossimi anni probabilmente il primo plasma verrà realizzato nel 2028 quindi questo è quanto questo è quanto avevo da dirvi su lo status o meglio sul passato recente degli esperimenti effettuati su FTU questo era un overview di risultati puramente sperimentali come avete visto non ho riportato studi teorici simulazioni anche perché questo tipo di documenti pubblicati hanno appunto lo scopo di rendere conto dell'attività sperimentale effettuata sui vari dispositivi e seguirò lo stesso approccio per i prossimi quindi il prossimo sarà Compass e ho già raccolto il materiale su questo tokamak che conosco anche di prima mano diciamo perché ci lavoro da sei anni quindi so bene quali sono i tipi di studi che vengono compiuti però seguirò un approccio abbastanza sistematico come ho fatto per questo e quindi il prossimo video che seguirà sarà questo e poi ci saranno presumibilmente TCV che è quello il tokamak svizzero e Asbex che è il tokamak a Garching in Germania e poi chissà magari potrei anche parlare di Jet che è il tokamak inglese però su questo non ho mai messo le mani non ho mai pure neppure lavorato sui dati quindi è un tokamak che conosco solo in modo indiretto quindi non so se ne parlerò però questo si vedrà e con questo spero che questo video vi sia piaciuto e arrivederci al prossimo video ciao ciao grazie